L'acqua è una risorsa sempre più preziosa non solo per l'uomo ma anche per l'agricoltura. Esperienze di estrema siccità come quella dell'estate scorsa sono la leva per mettere in campo tutte le risorse disponibili, tecniche economiche e specialistiche, per affrontare un problema che rischia di passare dall'emergenza alla normalità. Per cercare di dare risposte e soluzioni, a breve e soprattutto a lungo termine, Consorzio di Bonifica e Università Cattolica di Piacenza hanno organizzato il convegno Il Valore dell'acqua Coltiviamo insieme il nostro futuro. Credo che le difficoltà portino poi a questo, all'approccio da un lato multidisciplinare ma poi con razionalità degli eventi. Il nostro territorio che è caratterizzato da abbondanti precipitazioni, periodo invernale, vede quest'acqua di fluire spesso senza che venga trattenuta. Credo che l'effetto pubblicistico dell'acqua è in qualche modo violentato, non rispettato nel momento in cui noi non attrezziamo al territorio delle adeguate infrastrutture per il trattenimento con la conservazione di queste risorse ma poi rendere disponibile alla collettività e agli aspetti produttivi del nostro territorio nei tempi in cui questa manca. Un convegno è una tavola rotonda multidisciplinari che affrontano impatti della meteorologia, tecniche di captazione e raccolta dell'acqua, coltivazioni e tecniche agrarie per non sprecare un bene indispensabile alla vita. Gli aspetti affrontati da questo convegno, come dice il titolo, sono ovviamente la gestione dell'acqua e in particolare come riuscire a coniugare i diversi aspetti della gestione dell'acqua che sono influenzati dai cambiamenti climatici. In particolare gli interventi che possono essere fatti a livello dell'agricoltura con dei sistemi di gestione in rigua più interessanti ma contemporaneamente anche quello che si può fare per gestire la disponibilità di acqua per irrigazione, la riduzione delle piene e i sistemi complessivi per fornire di acqua la popolazione.